bella a tutti ragazzi su domirco ben tratti su gameplay channel e su motel manager simulator allora ragazzi andiamo avanti dunque io devo controllare un attimo quali stanze libere ho perché sinceramente non mi ricordo più perché un po di gente che aspetta ma devo dargli un attimino io una pulita per quanto riguarda la pavimentazione perché abbiamo il tizio che giustamente ci fa le camere in termini di asciugamani quelle cose lì ma non ne ho un altro per pulire quindi pulire per terra queste cose qua lo faccio direttamente io che tanto è la cosa più veloce alla fine da fare quindi non crea non crea grossi problemi ma arrivo un ufficio un attimo e un attimo che cos'è sta fredda ok allora adesso le ho tutte quante pronte quindi le possiamo dare tutte adesso il tizio sta andando a finire di mettere le ultime cose allora tu cosa vuoi a 96 ore però è un po tanto 96 ore preferirei di no perché un po troppo sinceramente allora vediamo questa cos'è che voleva vediamo vediamo cos'è che voleva allora un letto per 48 ore sì ti posso dare ti posso dare la 4 ciao che te do la 4 dai aspetta tu che cavolo anche tu un letto vabbè sì allora pigliati tu sta stanza che va bene così almeno ci paga 331 dollaro si e a te do la 2 che tanto anche a te va bene 7 spicci grazie ok allora le abbiamo detto sempre uguale sì pigliati questa e va bene così in realtà vabbè lei c'è il letto matrimoniale però comunque le va bene lo stesso l'importante che abbia almeno un letto quindi ce l'abbiamo fatta così almeno abbiamo ancora una stanza libera e abbiamo ancora anche un po' di soldini da poter eventualmente spendere allora io l'altra volta avevo preso un sacco di cose perché in live siamo andati avanti quindi lo dico per chi si è perso la live ovviamente andatela a recuperare abbiamo fatto una nuova stanza quindi abbiamo la stanza numero 6 abbiamo ingrandito già ovviamente il parcheggio qua l'abbiamo già tutta quanta ripulita eccetera adesso va ovviamente sistemata quindi intanto inizio a mettergli ste robe qua perché vabbè queste già che ci sono che cacchio ho fatto queste già che ci sono gliele metto io quindi mi ci vanno due coperte mettimele qua poi mi ci vanno due cuscini mettimeli qua perfetto ok così almeno qua il letto è già pronto e ce l'hanno già c'è un letto matrimoniale quindi la terrei doppia questa stanza qua poi vediamo abbiamo preso due porte di queste qua ovviamente più belline un po' di cose le avevo già prese altre no perché poi non ci bastavano i soldi e quindi purtroppo è andata così allora abbiamo ancora una luce e a sto punto un'altra luce la metterei qua qua ne metterei due perché è una stanza molto più grande rispetto alle altre quindi insomma mi sembra il minimo mettere almeno almeno due porte poi abbiamo preso la vasca quella un po' più figa guardate qua che spettacolo di vasca che c'ha benissimo visto che è tutto un po' più grande insomma anche qua va bene lavandino stessa cosa bello questo qua mi piace questo lavandino qua non è male allora questo dammelo già che te lo metto qua si arrivo in ufficio un attimo non rompere le balle allora la tua letto ovviamente gli ho preso anche qua quella un attimino più bella la cardigenica la mettiamo qua il termosifone te lo piazzo qua e siamo a posto aspetta che vado a fare il tizio in ufficio e poi torniamo qua e andiamo avanti ad arredare mi mancavano tutte le cose un po' più sciccose si si te la do la stanza come no aspetta ti do la uno ti è ciapali e porta a casa così almeno così almeno sei a posto allora fammi fare però un attimo una cosa nel frattempo metto questo staff questo sami qua a pulire perché adesso mi ha fatto le stanze ma ormai le stanze le abbiamo tutte quante pulite quindi finché qualcuno non lascia la camera libera è inutile il motel lo chiudiamo perché per adesso altre stanze non ne ho ho l'ultima ma quella la devo ancora finire ah no vabbè lei mi ha dato in realtà questa quindi niente la lasciamo lasciamo il motel assolutamente aperto e allora scusami che ti rimetto a pulire per adesso a fare l'house keeping cioè a pulirmi tutte le varie stanze dopo mi passerai qua a pulire per terra dai e ha fatto io ho fatto io giovane sono stato più veloce di te allora pigliamoci i soldi no perché non ce n'è poi va bene nelle varie live abbiamo anche aggiunto cabine telefoniche la fermata del pullman che porta molta molta più gente infatti qua vabbè adesso abbiamo 71 perché avevo appena preso i soldi ma devo dire che anche lo shop dà tantissimi soldi in più infatti l'ho rifornito il più possibile chiaramente e niente quindi devo dire che lo shop sta andando veramente veramente bene grazie anche alla fermata del pullman ci fa guadagnare veramente una una fraccata di soldi ho messo anche le sigarette come potete vedere lo stand con le sigarette anche quelle ci fanno guadagnare veramente tanto perché comunque le sigarette le vendiamo a un ottimo prezzo scusami giovane un attimo è che devo passare io ok le vendiamo a un ottimo prezzo quindi bene così allora mi bagno sacchetto di patatine che se no il tizio non corre più e siamo pronti a vedere questo qua che cosa vuole è un letto no scusami ma 96 ore veramente troppo fammi andare a ripulire un attimo cos'è che era la 1 no che cacchio distanza era era questa qua ok io intanto la vado a pulire con la scopetta come al solito lui deve finire però di di farla questa stanza qua mi deve ancora mettere la coperta aspettate svuoto anche un cestino perfetto e direi che ci siamo ok sta andando adesso a mettergli la coperta quindi siamo a posto per cui gliela possiamo anche dare allora ti prendo la 3 perfetto dimmi un po' per 12 ore assolutamente sì così almeno non è tantissimo tempo e mi paga alla fine un totale di 132 dollari che anche qua schifo non ci fanno ok adesso sì che posso richiudere il motel perché adesso davvero stanze non ne ho più almeno finché non completo la 6 ma quella come detto dobbiamo mettergli ancora qua il tutto il divanetto televisore tutte ste cose qua va bene allora abbiamo messo le tende cioè ho preso anche le tende quindi ne abbiamo una qua ne abbiamo un'altra qua che è sempre quella bianca e abbiamo quella della doccia gli ho preso questo un po' più un po' più bellina secondo me rispetto a quell'altra un po' più allegra dai poi gli ho preso il sofà questo qua grande lo mettiamo così perché qua andiamo a mettere diciamo la televisione qua gli posso mettere eventualmente qualche poltroncina messa magari qua gliene mettiamo una così gliene metto un'altra così poi se non erro anche il tavolino comunque l'avevo preso quindi qua il tavolino ci sta esattamente mamma mia che cacchio di memoria e non è vero mai nella vita ah gli devo mettere però i comodini allora abbiamo l'armadio io a sto punto l'armadio lo metterei qui poi poi abbiamo i due comodini che andiamo a mettere ovviamente qua quindi uno qua e quell'altro di qua perfetto sopra gli andiamo a mettere le lampade ottimo quindi mettiamo una così e una la mettiamo di qua benissimo qua gli voglio mettere ovviamente anche il frigo bar e tutte le varie cose ah no la tv gliel'avevo già presa non me la ricordavo questa cosa la tv gliel'avevo già presa quindi la tv ok gli ho preso anche già addirittura il condizionatore con la relativa unità esterna che però devo prendere da qua quindi dammi questo dammi questo e l'unità esterna te la piazzo qua sopra ok poi cos'è che abbiamo i tappeti perfetto quindi abbiamo questo tappeto qua glielo metterei così un bel tappeto che ci sta fa anche un po' di pandan con la vasca non riesco a capire se è dritto o no è stortissimo così è decisamente meglio e gli ho messo anche un altro tappetino che posso mettergli magari qua giusto per il lavandino ok adesso gli piazziamo ovviamente le solite cose quindi il porta asciugamano tac e tac che ovviamente al contrario perché mi sembra anche giusto ok perché sennò l'asciugamano c'è una gravità che non è di questo mondo poi gli prendiamo il porta rotolo ok che ti metto qua così anche il rotolo ce l'hai a posto basta in realtà non ho preso altro vabbè abbiamo degli shampoo e delle cose che possiamo anche mettere magari qua in realtà qua dovrebbe essere lo spazio apposta ma è difficilissimo metterlo ok sì qua non è che mi ci stia tantissimo in realtà vabbè il dentifricio te lo posso mettere anche qua nel mezzo che tanto ci sta sapone per le mani beh ci sta anche qua direi assolutamente sì te lo metto così ok poi cosa abbiamo madonna ne ho 12 saponi per le mani addirittura te ne metto due te ne metto un altro qua dai va bene così e accessori basta quindi in realtà mi manca un portasciugamano da mettere qua perché comunque un portasciugamano qua glielo andrei lo stesso a piazzare poi devo andare a raccattare ovviamente le varie prese devo prendere che cosa le prese magari vediamo di prendere anche qualcos'altro adesso diamo un'occhiata a frigo bar magari queste cose qua io sinceramente sinceramente le prenderei ok allora per cui facciamo il nostro bell'ordinozzo ordiniamo intanto anche il fuel così non rimaniamo senza e siamo a posto poi questa anche mettiamo l'house keeping in modo che possa pulire il tizio sì il condizionatore ovviamente mi dice che non è collegato come anche la tv ma perché non ho ancora collegato le spine quindi un attimo di pazienza allora qua direi niente qua anche abbiamo tutto qua anche abbiamo tutto le cose per il bagno idem come sopra qua non ci serve niente qua neanche e siamo a posto ok quindi dunque dunque vediamo cosa mettergli no io qua non gli metterei sinceramente nulla lampade le abbiamo già messe table pure beh carino questo ma sono i mobili vari mobili per la tv io ce l'ho già la tv l'ho già messa queste scrivanie qua a me piacerebbe anche mettergli una scrivania ma mi fanno un po' schifo i colori detto proprio molto sinceramente quindi allora gli prendo un altro armadio sicuramente sta roba qua vabbè magari questa gliela posso anche mettere lì a lato che ci sta come cose elettriche vabbè gli metto il condizionatore quindi non starei lì a mettergli la pala però gli possiamo mettere la macchinetta del caffè anzi mi dai direttamente questa che è decisamente meglio mi dai il frigo bar perfetto e vabbè il tostapane secondo me non è che ha molto senso nella camera del motel io lascerei lascerei così e ti devo prendere anche il portasciugamano va benissimo questo poi devo prenderti all'orologio qua quasi quasi gli metterei mettiamogli questo da più soldi 3 dollari ma mi piace più questo sinceramente anzi mettiamogli anche l'asciugatore quello elettrico mettiamogli l'asciugatore elettrico che secondo me è meglio compriamo anche una sveglia così tanto per buttare via i soldi perfetto ah lo specchio devo prendergli ecco lo specchio per il bagno non ho preso quindi vabbè prendiamogli questo che alla luce mi piace di più e direi che ci siamo allora come display vabbè qua direi che non ci serve nulla perché tutta la roba per il il motel no io volevo vedere se c'era dov'è che sta la oddio eccola qua allora gli prenderei una libreria a questo punto gli prenderei sempre questa perché mi piace come libreria e direi che siamo a posto dai gli ho già preso un bel po' di roba direi che gli ho già preso un bel po' di roba secondo me va più che bene così dai ordiniamo e ok perfetto allora abbiamo preso tutto adesso raccattiamo anche i soldi dalle cabine telefoniche perché anche questi comunque danno un bel introito alla fine sempre 100 150 dollari li riusciamo a raccattare aspettate devo andare a prendere le prese di corrente che le ho qua da qualche parte eccole qua le avevo lasciate già libere quante ne abbiamo scusami ce n'è una marea perfetto perfetto così mettiamo le prese alla tv e a tutto quanto e adesso andiamo a incassare anche i soldi delle varie pubblicità che ci abbiamo in giro e poi aspettiamo le 23.13 che per l'appunto il camion ci porti tutto quello che ci deve portare allora questa la andrei a mettere magari qui un po' imboscata così almeno il filo non dà fastidio questa anche la mettiamo qua e lo colleghiamo così anche questo è collegato e siamo a posto e queste va bene le lascio qua perché devo poi mettere frigo bar e le altre cose allora visto che sono le 18.50 in gioco direi di prendere i soldi delle pubblicità e poi metterci a dormire così almeno siamo a posto vedete che guadagniamo 433 dollari dalle pubblicità quindi tanta tanta roba devo dire benzina l'abbiamo ancora l'abbiamo appena comprata scusate quindi anche come what? perché questa era seduta nel nulla ti ho visto eh ti ho visto che eri seduta nel nulla allora l'house keeping ce l'ho come staff sì perfetto così va a rifarmi anche la stanza numero 5 direi di andare a dormire ancora un'orettina fino alle 23 che palle però tutti adesso è arrivata a rompermi le scatole intanto che dormo però questi la comodità è che avendo dato la stanza per poche ore vedete che la possiamo già subito riaffittare quindi riapriamo anche il motello così almeno siamo a posto e ok boh 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 a posto a posto che è arrivato penso sia arrivato il coso allora qua abbiamo le stanze beh intanto il tizio andrà a sistemarle e infatti vedete qua che corre con le coperte in mano con tutte le sue cosine e noi possiamo andare a metter via la roba allora questa è tutta roba che lasciamo qua in magazzino perché tanto la recuperiamo sempre solito con il tasto F quindi possiamo mettere tutto tranquillamente qua e poi raccattiamo tutto dopo benissimo credo di aver preso tutto non dovrebbe esserci più niente era tutta roba abbastanza ingombrante però però ce l'abbiamo fatta prendere tutto basta no? sì perfetto ok c'è a ribaderci allora fatto questo lui va a lavare ovviamente anche la biancheria quella sporca io vado a prendere no non è questa quale cacchio è la stanza eccola qua allora prendiamo la scopa così diamo eventualmente una pulita a parte che qua è tutto bello pulito a parte qui devo dire che sono stati anche bravi dai svuotiamogli giusto il cestino e poi c'era questa stanza qua a cacchio io avevo lasciato qua ancora la tolla di vernice me l'ho completamente dimenticata lasciala qua mi era finita in questa camera per sbaglio quando la camera era diciamo così affittata da una persona quindi non mi faceva entrare in camera ma c'era la porta aperta e quindi mi ha fatto depositare sì la tolla di vernice però poi non me la faceva più riprendere quindi è stato è stato un bel casino è stato un bel casino allora vediamo qua il tizio anzi i tizi che cosa vogliono che ce n'è più di uno una per 96 ore no eviterei perché come detto è un po' troppo 96 ore vediamo questo qua tutto elegante 2 per 72 ore sì qua non so se ho due letti quella singola o quella doppia allora fammi vedere no quella doppia perfetto perfetto quindi questa ti va bene mi paga 5,29 sti cavoli ci paga veramente veramente tanto ottimo così bene bene allora dai finiamo di arredare quindi la stanza 6 così almeno abbiamo anche questa e siamo a posto allora vediamo se qua mi sono scordato qualcosa no direi che abbiamo messo tutto qua sì qua abbiamo messo tutto perfetto allora quindi devo metterti il secondo armadio perché io gli metterei almeno due perché qua essendo grossa la stanza secondo me due vedete stanno meglio fa come un armadio singolo a 4 ante diciamo è decisamente più più bellino dai poi abbiamo anche questo comodino che francamente sì potrei metterlo anche qua dai che non sta male non sta male anche qua questo questo comodino questa credenza insomma chiamatelo un po' come volete più che comodino è tipo una cassettiera insomma perfetto poi abbiamo bisogno del frigo bar che potrei mettere anche qua che tanto lo possiamo mettere qua tic attaccato al muro sopra ovviamente gli vado a mettere la sua bella macchinozza del caffè mi dai una bella presa no riapri ok dammi una presa elettrica così colleghiamo il tutto ottimo almeno è tutto quanto bello che funzionante vai perfetto così cosa mancava ah mancava questo vabbè che sì oddio l'asciugamano glielo potrei evitare perché in realtà io gli ho preso dove sta dove cacchio sta eccolo qua gli ho preso l'asciugatore questo qua quello elettrico ma va collegato no questo qua direi di no questo direi assolutamente di no poi piazziamo ovviamente un orologio sarà dritto così che ore sono le 4 aspetta non sto capendo ma non capisco se mi fa l'orario corretto no secondo me è tipo così dovrebbe essere credo così no mi sa che al contrario allora mi sa che al contrario perché sono quasi le 5 quindi sì è giusto così ok è giusto così è giusto così va bene facciamo aspettare un attimo il tizio ah già lo specchio per il bagno così abbiamo oddio qua ce ne volevano due effettivamente o uno grande però vabbè non ci ho pensato vabbè per adesso ne tengo uno in mezzo va bene così e poi gli mettiamo anche la sua sveglietta magari gliela mettiamo qua dai giusto come come arredamento perfetto allora andiamo a vedere questo qua in ufficio chi è chi vuole allora intanto fammi prendere la chiave così te la metto già qua un letto per 48 ore mi va benissimo così mi dai 296 e siamo a posto così perfetto allora adesso le stanze le ho tutte impegnate chiudi un attimo il motel perché volevo ancora sistemare giusto due robe perché ho ancora la libreria mi sembra che devo mettere o mi sbaglio però non ho libri che pirla sì ho la libreria ma non ho i libri vabbè la libreria la metterei vicino a qua le sedie che secondo me ci sta così uno prende il libro si mette qua dove c'è il tavolino e se lo legge e penso basta ragazzi dovrei avergli messo dovrei avergli messo in realtà tutto è venuta fuori una bella stanzettina devo dire cavolo molto chiccosa molto chiccosa bella grande spaziosa ha la sua zona tv magari qua la metterei un po' più vicino mettiamogli magari così che tanto va benissimo ci starebbero anche altre due poltroncine ma va bene dai dire che così va già più che bene niente quindi devo riaprire il motel fondamentalmente perché adesso comunque la stanza 6 ce l'abbiamo quindi assolutamente riapriamo questo qua lo rimettiamo alla pulizia ovviamente e direi che abbiamo fatto assolutamente tutto ok diamo un attimo solo un occhio veloce allo shop vabbè che adesso passa il tizio a pulire ma intanto se becco qualcosa madonna che macello che hanno fatto qua dentro che cacchio de macello che hanno fatto allora questi me li metti boh qua ah ce n'era solo uno che ho già messo perfetto ma no che zozzeria che c'è qua dentro però che zozzeria che c'è qua dentro porca miseria vabbè allora qua mettiamo tutta questa che tanto ci sta e ci sta un pochino anche di qua così almeno l'acqua l'abbiamo messa fuori e va bene devo poi prendere sicuramente anche le sigarette perché le abbiamo praticamente già quasi finite però però vabbè pian piano pian piano vedremo di fare tutto anche queste possiamo metterle e tra poco dovremmo rifornire di nuovo tutto il nostro minimarket perché insomma vende veramente tanto infatti guardate adesso 155 e 75 ci ha dato come incasso quindi tanta roba tanta roba vabbè poi ho messo anche una seconda pompa di benzina anche questo sempre fatto in live non so per l'appunto lo dico io mi ero completamente scordato anche di questa cosa ma giusto per chi non dovesse aver visto per l'appunto la live faccio vedere anche un attimino ciò che è stato fatto va bene ragazzi allora io direi che per quest'oggi posso concludere qua aspettate che diamo un attimo intanto prendiamo le chiavi di questa stanza che lei ok voleva ridare semplicemente la stanza qua metto la 6 perché la 1 va pulita ok qua ad Einstein in biondo qua gli diamo questa stanza qua e guardate che solo di bonus questa stanza raccatta 133 dollari e 50 più ovviamente il pagamento del pernottamento quindi tanta tanta roba ragazzi veramente tanta tanta roba non so se posso aumentare anche i prezzi del motel no io li terrei per adesso ancora così sinceramente teniamoli ancora così perché non mi fido ad aumentare troppo non vorrei che poi insomma la gente si lamenta quindi preferisco preferisco tenerli così ok il tipo lo rimetto a housekeeping così mi pulisce anche la stanza che ci hanno appena dato peraltro appena finito anche di pulire per terra quindi ottimo così finisce di pulire per terra e mi va a rifare i letti e tutto quanto va bene ragazzi quindi dicevo io direi che posso concludere qua mi raccomando voi come sempre sostenete questa serie lasciando un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti e tenete la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti youtube al tastino grazie sotto di ogni mio video detto questo giovanotti io vi ringrazio vi saluto e ci bicchiamo nei prossimi gameplay ciao belli ciao